Picchi rilevanti per la salute dell'uomo. Questa è la pronta risposta che Arpav mostra attraverso dei grafici a seguito del rilevamento di tracce di rutenio 106 nell'aria delle province di Verona, Vicenza, Belluno e Friuli, Venezia, Giulia. Qui si trovano infatti le stazioni di controllo Arpav che nei giorni scorsi e ancora oggi evidenziano una piccolissima quantità di sostanza radioattiva dell'aria. Di più nella zona di Belluno per poi scendere gradualmente verso Verone e la Lombardia. Anche altre stazioni europee hanno segnalato questa comunque indesiderata presenza. Si tratterebbe di un radionuclide che si trova nei prodotti della fissione nucleare anche se si può escludere che la causa sia un incidente di qualche centrale, ci spiega il dirigente del servizio osservatorio sugli agenti fisici. In questo caso infatti i radionuclidi in circolazione sarebbero più diversificati, nessun pericolo per l'uomo, insomma i livelli di rutenio 106 che sono stati misurati sono di molto inferiori rispetto alla radioattività naturale. Siamo immersi in un fondo naturale di radiazione, quindi siamo esposti alla radioattività continuamente e diciamo dovunque ci troviamo. Questa radioattività naturale facendo una stima proprio molto approssimativa dà un contributo di esposizione all'individuo che è più di 100 o quasi 1000 volte superiore all'esposizione prodotta da queste tracce di rutenio 106. Non è ancora ben chiaro da dove possa derivare questa contaminazione, bisognerà attendere il risponso delle fonti ufficiali. È probabile appunto che si tratti di qualcosa di molto lontano spazialmente come origine che nel diffondersi naturalmente si è diluito fino ad arrivare anche dalle nostre parti a concentrazioni appunto così basse da non destare nessun tipo di problema.